Maria, grazie a voi. Allora, un bel 3-0 in questa prima giornata di ritorno contro l'ultima in classifica. Come ti senti dopo questa prestazione? Ogni volta che si dice si è sempre contento. Penso che il giro di ritorno si inizia tra i modi e vediamo a questo il terreno del campionato che si succede. Noi non diciamo mai niente, però dopo partire, dopo partire, vediamo. Senti Maria, grazie, il fatto che siete già in ritorno di ritorno della classifica, tra la fine del girone di andata e il girone di ritorno è sicuramente una cosa positiva per voi. Sì, sì, sì. Vediamo. Noi sicuramente dobbiamo fare uno strumento in ogni partita. Poi se le squadre a presto ne ci aiutano, siamo contenti. Senti, adesso una bella settimana di allenamento e poi trasferta a Messina il prossimo weekend. Sì, sicuramente non sarà una partita facile, però trasferta, perché sono trasferte lunghe e infatti voi potete stare sicuro. Allora, dai, ci devo fare una... Grazie, grazie, grazie.